Il forno 5 minuti è costruito con la cupola come i forni tradizionali, quindi noi abbiamo ricostruito una cupola in mattoni, solo che è stata fatta in acciaio. Il sogno dell'imprenditore, come io e il mio socio siamo, è la cosa più bella che potevamo avere, è proprio quella di avere continuità nell'impresa che abbiamo fondato. Grazie per la visione!